se vedessi la testolinea dalla macchina si si è la macchina si ma se lo prendi con la macchina è un fenomeno si ancora colpito oh l'ho colpito 341 metri solo 341 posso lasciare utile in questo momento è lì sposto mi ha fatto fare uno c'è un'altra c'è un altro è un amico è finito questo è un amico è rubato un po' di roba ma io ho avanti l'affruggimento è provato da qui sì sì ma non riuscivo a levarmela ah ok penso triangolo se ne sbambo 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 ma mamma mia c'è anche la cosa non ci push sono due qui sotto due sotto oh c'è anche la cosa lo so недora terra i ritorno salta a te via vai vai non è a terra pushando ma aspetta non serve pushare non è a terra push va bene guardate 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 era qui per usarlo le BR non sono passate no no, quello sul testo lo tirete tu ho un altro e io te l'ho finito ma ero a terra quando l'ho separato io vieni qua è qua, sono qua a venti Nela eccolo tutti fatti Nela, vieni qua e come sei con si? ti senti che sei buonissimo grazie ho la macchia davanti a te bravo better ah ma tu ne avevi messo una a terra tutto due fatti cavolo come via Dio va baffando vai ti amo ah venga dai dov'è che scegli dentro non è vero non è vero è morto taglia bravo un altro te l'ho pingato eh è l'ultimo si ho vinto bravo bravo bravo